Il viavai continuo insistente di ragazzi, tra cui diversi minorenni nella palazzina dove risiedeva l'uomo con precedenti per spaccio di droga, ha insospettito i carabinieri della stazione di Raiano, che hanno proseguito per giorni gli appostamenti. E avevano ragione. Nella tarda serata di ieri, gli uomini del comando di Raiano hanno infatti posto agli arresti domiciliari D.A.P., queste le sue iniziali, di 51 anni, per aver ceduto almeno a 4 minorenni delle dosi di marijuana. L'ordinanza è stata emesa dal GIP del Tribunale di Sulmona in seguito alla verifica del quadro accusatorio ricostruito in prima istanza dai militari e successivamente verificato e accolto dalla Procura della Repubblica di Sulmona. Il cinquantenne, dopo aver espletato le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, con il divieto di incontro con chiunque, tranne che con i propri familiari conviventi. La cittadina, purtroppo, non è nuova ai reati legati allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Risale infatti a luglio scorso la vicenda che ha visto un giovane di Sulmona finire in overdose dopo aver acquistato e consumato droga proprio a Raiano. In quella circostanza, lo spacciatore aveva prima venduto una dose di stupefacenti al ragazzo e poi, quando ha visto che reagiva male all'assunzione della droga, ha pensato bene di scappare, lasciandolo quasi esanime nella sua auto parcheggiata nel piazzale del cimitero.